Quando lei cominciò a superiore, lei ha cambiato anche di cervello. Prima molto brava lei, molto, molto, molto brava. Molto rispetto, brigare sempre. Perché? Come ha cambiato cervello? Cos'è successo? Sua compagnia. Gli amici? Gli amici. Quindi lei provava vergogna a Perina. Perché aveva cambiato cervello? Sì, vero. Vergogna? Sì. Ma questo perché i suoi connazionali, gli altri pakistani, le dicevano questo di Ina. Sempre chiamano me, sei la tua figlia, oggi c'è parco, oggi fumo, anche lui drogavo, ho preso birra, ho preso hashish, ho sempre chiamato. Io ho chiuso anche tante volte il cellulare, non voglio sentire. Lei pensa di meritare trent'anni per aver ucciso sua figlia o pensa che sia stato ingiusto? Non è giusto, non è giusto. Perché non è giusto trent'anni? Lei in fondo ha ucciso sua figlia, no? Sì, questa mia figlia. Se fosse successo in Pakistan? Non c'è successo anche di questa cosa a Pakistan. Perché non sarebbe successo in Pakistan? Perché in questa cosa non c'è discoteca, non c'è libro anche di come donna. Non c'è la libertà per la donna? Come qua. Come qua. E questo è un bene o un male? Costa belle. Non bene che non ci sia questa libertà. Per donna per belle. Secondo lei va bene, sempre guarda anche le televisioni qualche volta, discoteca, beve, morire stada. Libretà così no va bene. Troppo libertà per donna. Ma le sue figlie, i loro mariti, li conoscevano, li avevano scelti loro o li avete scelti voi? L'ho apprezzato io. Li hai rappresentati lei? Sì, sì. Cioè lei ha detto questi sono i vostri mariti futuri? Sì. Ma anche per Ina aveva scelto un marito? Sì, Pakistan li ha scelto. Lei aveva scelto un marito? Sì, sì. Ma Ina o lei aveva scelto? No, mia moglie ha scelto anche, d'accordo anche a me. Ah, voi due, quindi i genitori avevano scelto per Ina? Per Ina. Penso che la mia vita è rovinata. Non solo me, ma tutti i miei famigli. Mia moglie, mio altro bambino, io amo i miei bambini. Non solo chi vive, chi è morto, io voglio bene anche di lei. Anche io, perché è il mio figlio. Ma in che modo la ama adesso? Lei non c'è più, non c'è più perché è stata lei azzolta della mia vita. Lei non c'è più, però lei è sempre il mio cuore, vicino al mio cuore. E la sua religione c'entra qualcosa con questo omicidio? No. 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 Perché avete deciso di seppellirla in giardino? Solo questa cosa lei è tornata a casa. Sempre il mio momento, mia figlia è tornata a casa. Quando lei è morta, io pensavo solo questa cosa lei, di averla vicino a casa mia. Solo casa. Grazie. Grazie. Grazie a tutti